Ciao, io sono l'amante di Aldo De Luca, un ciao a tutti e Gossip News. Come stai innanzitutto? Molto bene, si vede, sono anche dimagrito, dicono, purtroppo dicono, sai perché dicono che sono dimagrito, perché in televisione sembra più grasso, quando mi vengo dal vivo dicono, a me questa è dimagrito, invece no, è la differenza tra il video e la realtà. Non è vero che fai un effetto diverso? Ti dico che purtroppo questo mi spinge poi a mangiare, perché mi sento magro, mi autoconvinco, invece non è così. Quanto pesi? Diciamolo a tutto il mondo. Ora peso 92 kg per 1,87. Ci sta insomma. Sì, il problema è come sono distribuiti. Come dovrebbero essere distribuiti? Ho più di massa muscolare, invece purtroppo non è. Siamo molto rilassati in questo momento. Ma tu ci vai in palestra, ti alleni? Io no. Perché ti annoio o perché non hai tempo? Ma la scusa è che uno non c'ha tempo, fondamentalmente è perché, forse perché mi annoio, perché non mi va. E stasera si parla di reality show, tu come vedi i reality show oggi? Come li vedo? Sicuramente sono il format vincente della televisione in questo momento, perché invece di aver avuto un declino come tutti speravano, hanno fatto un grandissimo successo ultimamente. Credo, sentivo ieri, parlo tecnicamente, abbiano i due reality principali, sono il grande fratello e l'isola, quest'anno hanno fatto sì che i bilanci sia Rai sia Medici rientrassero nei patti di Concordato. Ma il Genefello mi ha dato il successo, quindi non ci mancherebbe altro, è stato il mio punto di partenza. Però l'isola come esperienza di vita credo sia una cosa bella, non la farò mai, però. Fine luglio inizio un film simile a Romanzo Criminale, sulla storia di un personaggio della Roma cattiva degli anni 70 per Sky. A settembre speriamo di fare qualcos'altro, non parliamo, siamo scaramanti. Favoloso comunque, abbiamo già dei progetti. Comunque se non faccio niente è che sto bene pure così. E l'amore come va? Il lavoro va bene? L'amore va bene, mi avete pizzicato voi, avete le foto su Gossip ci sono, sono felicemente fidanzato. Da quanto ormai? Da otto mesi. Come si chiama? Mi si chiama, Mariella Pellegrino. E dove andrete in vacanza? Adesso andiamo a fare una settimana a Capoverde per la gentile richiesta di un giornale e poi voglio andare a Cuba due settimane. Però se devo lavorare rimango molto bene qui.